È stato uno dei temi caldi della campagna elettorale eugubina, ovvero il futuro della zona di San Pietro e della sua ex palestra, dall'ipotesi di farne un mercato coperto stabile al luogo di aggregazione per i giovani. In attesa di una destinazione d'uso chiara, sono stati avviati i lavori di sistemazione dell'immobile da anni ormai in stato di abbandono, un edificio vincolato per la sua storicità a cui si chiede di ridare un'immagine positiva a quella zona di centro che sconta quella non proprio bella del parcheggio interrato. Ma per farlo l'amministrazione comunale chiama in causa anche la città con le sue associazioni e le sue proposte. La palestra di San Pietro è l'altra grande sfida che ci siamo posti in questa seconda parte del progetto politico di ridargli vita, anche quello è uno spazio che va assolutamente ridato alla città, essere in qualche modo vivo e fruibile dalla collettività. Sono iniziati, stanno iniziando in questi giorni dei lavori di risistemazione della palestra e più avanti anche lì ragioneremo insieme, l'obiettivo è quello di ragionare insieme alla collettività su questi spazi pubblici perché se no se viene un ragionamento solo da parte dell'amministrazione rimane aggrappato diciamo alle mura comunali del palazzo pretorio, invece una condivisione di progetti in qualche modo che possono restituire patrimoni alla città deve essere fatto con la collettività.